Abbiamo pensato insieme io e Don Daniele Simonazzi di fare un breve sintetico ricordo delle due persone che sono state insieme con Don Virginio, un po' i soci fondatori delle reti della carità e quindi ci sembrava doveroso fare questo. Per quanto riguarda la mia parte, ho messo mano anche a degli appunti molto schematici che dicono alcune parole chiave e che faremo circolare nelle reti, qualcuno le ha anche in mano due o tre e sono riuscito un po' di corsa a farle fotocopiare. Ma è bene che noi non gli avviate questi appunti sott'occhio, perlomeno non tutti voi, perché così ascoltate me anziché una cosa che potrebbe essere un po' eccessivamente pesante la lettura degli appunti. E quindi vorrei raccogliere la mia parte, il mio intervento intorno alle fonti della persona, della personalità di Giovanni, perché un po' la persona già la conoscete quasi tutti voi abbastanza da vicino, poi anche nel lungo percorso della sua vita. E quindi per me ha più senso in questo momento provare a fare proprio il riassunto dei riassunti, quale ci è capitato, ci sta capitando soprattutto all'interno della nostra comunità, di fare in questi ultimi sette mesi. C'è anche un altro amico delle case della carità che è venuto a mancare ultimamente, che è Don Giacomo Stagni, di Vidiciatico, le sue case per anziani. Lo ricordo perché una volta da giovanissimo cappellano qui di una parrocchia proprio del centro di Bologna, io lo vedevo sempre girare per le strade alla guida di un camioncino, di un furgoncino pieno di roba vecchia che lui raccoglieva nelle varie zone di Bologna, e così mi incuriosì, quindi diventavamo un po' amici e lui mi disse guarda, volevo dirti una cosa a voi dossettiani, che per me Don Giuseppe Dossetti rappresenta una persona piuttosto originale e di importanza decisiva per tutti noi, perché mentre normalmente, era morto da poco Don Giuseppe, mentre normalmente i preti di un certo carisma lasciano ai loro discepoli e alla loro gente il loro carisma, con il problema, con la difficoltà che quando se ne va l'uomo carismatico però i discepoli rimangono senza niente in mano, se non qualche vago ricordo, invece nel caso di Dossetti lui ci ha messo in mano delle fonti e quindi noi anche senza di lui abbiamo tutti gli strumenti per andare avanti sulla strada da lui tracciata, riferendosi soprattutto alla sacra scrittura nel caso di Dossetti. Ecco, allora questo pensiero che mi è sempre rimasto molto lucido nella memoria, che quel giovane prete più di trent'anni fa mi aveva confidato, così ho cercato di applicarlo anche alla memoria che stiamo faticosamente raccogliendo di Giovanni. Proviamo a risalire alle fonti fondamentali della sua vita, allora ve ne elenco due, poi farò un'osservazione finale sugli ultimi passi della sua vita, gli ultimi mesi. Allora, la prima fonte, chi è stato più vicino a lui, specialmente negli ultimi tempi la riconosce molto facilmente, la sua prima fonte è stata la famiglia da cui lui proveniva, perché soprattutto negli ultimi tempi, ma poi tutta la sua vita è costellata da questa memoria, la memoria del suo papà, della sua mamma, del bene che si volevano i suoi genitori, della sua vita con gli altri fratelli, sorelle della sua famiglia, fino agli anni in cui a un certo punto anche lui ha preso il volo, e ha iniziato una vita così, lo studio, l'impegno nel ministero. Ma questa memoria della sua famiglia è rimasta proprio indelebile e a me sembra tutt'oggi che sia un po' una delle cifre fondamentali della sua personalità. Che cosa in particolare? L'amore fra il papà e la mamma e quindi quanto di questo amore è stato trasfuso poi nella vita, nell'educazione dei figli. Quando Giovanni, a motivo del suo essere parroco alla dozza, negli ultimi diciamo 30 anni della sua vita, si è trovato anche in contatto con il carcere della dozza, e raccontava spesso questa prima impressione che ebbe al suo ingresso in carcere. Ho trovato tanta gente che a me sembra proprio identica a me, non mi sento per nulla migliore di loro. E che cosa però ha di caratteristico questa gente che ho trovato in carcere? E che sono stati senz'altro meno amati di me. E quindi credo che la ricetta anche per accostarsi a loro e che la società e la Chiesa dovrebbero avere per far qualcosa per loro sia proprio in questa direzione. Ridonare a loro la possibilità di affetti familiari, di famiglia nella quale circola qualcosa che ridà senso alla vita e non solo senso ma anche energia, motivazione fonda di vivere una vita umana, degna. Ecco, questo è il pensiero che tante volte Giovanni riferiva nelle sue conversazioni e nella sua predicazione e che poi lo ha portato in modo abbastanza naturale a pensare che il compito della sua vita fosse fare famiglia. E quindi prima ancora di diventare prete, di diventare diacono addirittura lui è poco più che ventenne e ha incominciato questo tipo di intenzione molto precisa, molto radicata nel suo animo che era più che un'intenzione di idee, di tipo ideologico ma è proprio per lui era naturale questo che cosa si può fare se non mettersi insieme, vivere insieme di cercare di riprodurre qualcosa di quello che io ho trovato nella mia famiglia di origine. Ecco, questo è senz'altro la prima grande fonte forse a pensarci bene la decisiva fonte della sua vita. Poi certo, un altro incontro, non un'altra fonte come cosa ma l'incontro con una persona, senz'altro e questo è emerso anche da quello che il nostro vescovo ha detto nel suo funerale e anche la nostra Maria Elisabetta che oggi è qui presente come così è anche responsabile del nostro gruppo di sorelle e hanno evidenziato un po' anche in reazione alle primissime cose che si dicevano di lui subito dopo la sua morte nei giornali hanno circolato tante cronache, notizie, articoli di giornali che presentavano molto Giovanni come il prete degli ultimi il prete dei poveri, il prete della Caritas il prete un po' di sinistra, il prete progressista ma tendenzialmente questo un po' ci infastidiva non perché non sentiamo verissime queste cose per descrivere la personità di Giovanni ma perché non le sentivamo proprio le fonti le fonti proprie del suo essere quello che era e che invece risalivano tutti a una fonte sicura che è proprio il suo incontro con Don Giuseppe noi lo chiamiamo Don Giuseppe, Don Giuseppe Dossetti che fece ai tempi del concilio a Roma mentre lui studiava teologia Don Giuseppe era dentro mandato da Lercaro nel gruppo della Chiesa dei Poveri e così anche Giovanni che frequentava quel gruppo soprattutto di vescovi latinoamericani fece conoscenza con Don Giuseppe e da lì la sua strada ecco il suo sentirsi attratto dalla Chiesa di Bologna quindi la domanda di poter fare il diaconato in essa e poi il presbiterato e tutto quello che è nato successivamente ma certo l'incontro con Don Giuseppe è stato un incontro decisivo per segnare Giovanni io direi confermare Giovanni in qualcosa che lui aveva già annusato a casa sua dai suoi genitori che è la parola di Dio nella storia nella storia della gente nella vita concreta della gente quindi un'immersione totale una rilettura della Bibbia nella vita degli altri e quindi da questo anche un'altra parola importante che lui sempre pronunciava volentieri nei suoi discorsi la laicità però questa solo ve la pronuncio perché su questo abbiamo chiesto al nostro amico Fabrizio che molto gentilmente in un momento difficile di grande impegno della sua famiglia ha potuto venire con noi a aiutarci proprio su questo tema la laicità soprattutto in rapporto alla Costituzione ecco Don Giuseppe il suo essere costituente come cristiano come ha potuto far trasparire nella Costituzione tutti i suoi valori cristiani senza mai nominarli per nome e cognome ecco ma accanto alla laicità ancora il senso della fede che continuamente entra in contatto con la vita delle persone quindi ancora la famiglia il Vangelo nella famiglia la grande responsabilità che hanno i genitori nella formazione dei loro figli prima ancora delle strutture della Chiesa della Chiesa come agenzia educativa lui dice ma siete voi genitori le cose più importanti si imparano in casa io le ho imparate in casa prima che ancora che nell'oratorio nelle aule di catechismo ed è vero profondamente vero anche io lo riconosco ripensandoci nella mia vita ho studiato tanto ho studiato anche tante cose di seminario ma senz'altro le linee guide della mia vita sono precedenti e risalgono proprio agli anni in cui ero in casa con il mio papà e la mia mamma che oltretutto non frequentavano assolutamente la Chiesa e va bene allora per tornare a Giovanni certo quindi anche quei discorsi che lui faceva disturbando un po' i suoi colleghi preti qui a Bologna ai quali diceva continuamente guardate che dovete mettere dentro le famiglie nella pastorale delle vostre parrocchie dovete mettere i diaconi come tipico esempio di una chiesa governata da persone normali che lavorano che hanno moglie che hanno figlio non potete pensare al futuro della Chiesa se non all'idea di decidervi a ordinare preti anche persone sposate non solo dei celibi e che era un po' un suo continuo discorso soprattutto negli ultimi anni e lo faceva anche con i suoi colleghi preti negli incontri di vicariato quindi disturbando bocchiaramente perché era sempre una voce fuori coro ma da dove nascono tutti questi pensieri nascono sempre a quest'idea questo mirabile incrocio tra vita di famiglia e Vangelo e quindi la storia della gente basta le cose sarebbero tante ve le lascio come cose messe in grassetto nei miei appunti ma mi sembra che sia questa l'eredità sulla quale si può lavorare agilmente anche non essendoci più i grandi protagonisti i grandi veicoli di questi pensieri ma appunto loro ci hanno messo in mano tanto materiale vivo che continua a lavorare nei nostri cuori e quindi noi non abbiamo proprio timori per il futuro nostro nella nostra piccola comunità della chiesa della società in cui viviamo perché sono stati seminati dei vettori di energie che non sono più soffocabili scappano da tutte le parti il Papa Argentino ci dimostra come lui lo chiamava proprio questo che ormai alcuni processi sono irreversibili bene basta Daniele Daniele vieni tu a